Grazie, grazie, grazie. Questa è la vittoria della gente e della città. La vittoria di una grande squadra che è qui con me, ma ancora di più la squadra della lista civica Noi per Arona, 350 persone di tutti i credi politici, di tutte le età, di tutti i quartieri, insieme alla Lega. La vittoria della gente, noi l'abbiamo lungamente ascoltata, abbiamo scritto il programma dall'ascolto, ora ci hanno aiutato in campagna elettorale, potranno aiutarci nell'amministrazione di una città che può essere leader, insieme alle altre città del lago, di un lago maggiore bellissimo. Continueremo la crescita che è la rivoluzione iniziata nel 2010, sempre non lasciando però indietro nessuno. Le fragilità, noi dobbiamo stare vicino alle persone in difficoltà, coinvolgendo i giovani. Ed ecco la piazza San Graziano, inizieremo subito con i giovani, quindi Francesco Provicoli, a lavorare sulla piazza del sapere il caffè letterario, poi parcheggi, poi la palestra e nei primi 100 giorni si vedrà già subito il cambio di passo della città. Abbiamo bisogno di tornare insieme al senso di comunità e questo lo vogliamo fare con una grande squadra, con tanti cittadini, con tutti quelli che lo vorranno. E quindi è un grande risultato plebiscitario, devo dire, quindi ce l'aspettavamo non in questa misura così forte, ma io devo ringraziare in primo luogo la gente.